Ciao a tutti! Ciao a tutti Sofia e Zananna Benvenuti in questa Mystery Box delle LOL Challenge! In questa sfida avremo due scatole di cui non conosciamo il contenuto L'unica cosa che sappiamo è che all'interno ci saranno degli oggetti a tema LOL! E che un oggetto sarà bellissimo e l'altro meno bello Sei pronta Sofia? Sì! Andiamo! Sasso, carta, forbici! Sasso, carta, forbici! Adesso Sofia può sbirciare E io dovrò scegliere se tenere la mia scatola o se cambiarla Secondo te Sofia cosa dovrei fare? Non so Io la cambio Ok Adesso posso aprire 3, 2, 1 Sì! No! Un tovagliolo! È bellissimo ma è solo un tovagliolo Sì! E invece tu cosa hai? Ha una LOL LOL K-5 Bellissima! Sì! Ok ragazzi Adesso dobbiamo aprire la nostra cereniera Un'indizia! Fa un po' vedere Coriandoli, freccia e capelli Guardate un po' C'è scritto Party over high L'ultima E poi scopriamo la nostra nostra surprise Ok Uno strato misterioso Che belle Sono parute Ho trovato questi Capelli E questi con i buccoli E questi così Questi sono degli chignon come il mio Guarda E le bucce sono davvero tantissime Non come l'alzerone Che belle Guardate ragazzi Wow la più bella è solo questa Allora le dobbiamo spacchettare Ma ho trovato altri capelli Con il fiocchetto Che carini Un pettine Guardate Ok adesso apri questo Una collana con i pate Dei scappette Un cappello Ma che carino E' bellissimo Un'altra parrucca Ma questa è molto strana Perché questa sembra al cioccolato E questa sembra alla vaniglia Il suo vestitino E' proprio stile hip hop Il suo peperon Un'altra parrucca Adesso è stata la nostra L'alzerone Che bella Che bella Sassatela Ha pure le taccine in avanti Ma che bella Sofì Guardate Bellissima Bene Bene Adesso passiamo a round numero Due Sesto Carta Forbici Ok Cos'è scambia? Sì Voglio quella Ok Ok No Sbagliato Già lo so Andiamo? Sì Un'altra volta Sì 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 Guardate questa Che bella Guardate Ho trovato l'inizio Sì 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 Una bustina Sì 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 E cos'è qui? Questo lo so Qua si può mettere la lola E qua si mette un peperon Adesso è una bustina Il suo vestigino Ma che carino Ma che carino Molto Queste sono tutte le LOL Hair Girls Una collana Ma Sofì sai che Più che una collana Mi sembra una fascia Una fascia Come quella delle reginette È proprio questa Sì È proprio lei Sì Assieme questa Cos'è? Una doncina Sì Sì E qua dietro Abbiamo ancora un'altra cosa Che le abbiamo fuori Altre due cose? Ah sì Ah ma sì Sono dei picocini Guardate Ma guarda Trova c'è il suo di veloci Eccolo Tutta bucchia Un pettine Ok Adesso arrivo a scrivere Il video che faccio Un'altra logica Eccolo Eccolo Ma Sofì E' bellissima Ma Sofì è bellissima Ma Dottu Ma Dottu E' bellissima Voglio provare E' bellissima Che vero E' bellissima E' bellissima Vado Adesso passiamo a round numero Tri Scala Stasso Cartaburbici Tocca a me! Ragazzi, io sbircio! Tu non guardare! Ho visto! Voglio guardare! No! Non è possibile! Guardate qui! Portachiami delle LOL! Vabbè, questa volta sei fortunata, mamma! Sì, ma tu lo sei di più! Allora vado ad aprire il mio portachiavi! Che devo dire? Che è molto carino! Ah, devo dire? È bellissimo! Bene, io ho trovato il puzzle delle LOL tutto glitterato! Oh! Guardate! Sono tutti glitterati! Vi dico qual è la mia moglie preferita! Questa qua! E qual è la tua? Questa! Adesso passiamo al round numero 4! Questa! Questa carta-fabbi-sis! Si! Ci ci! Il c'è? Ilireo! Iiiio? Cambio. A me! Ma voglio si darò prima! Eh? Si darò prima! Luca cambio! a me è uscita una borsetta che carino tutta glitterata invece io nella mia scatola ho trovato la Interactive Life Pass qui c'è il cagnolino qui il coniglietto e il mio capino il tuo preferito vediamo un po' cosa uscirà come sempre tantissima plastica no è uscita il tuo preferito allora comincio ad aprire le bustine che carina è la busta del latte la seconda un tablet guardate la terza un cupcake che carino vero lo accendo guardate cosa succede se gli tocchiamo la testa gli piacciono le coccole poi gli diamo il biberon gli piace il latte si poi qui c'è un microfono che vi consentirà di parlare con lei vi risponde hello ciao bel gattino e poi se lo appoggio su un lato si è addormentato che carino questo Life Pads adesso passiamo al round numero 5 sasso carta forbici tocca a me sbirciare questa volta vediamo eh ok va bene sei proprio sicura? si ok no adesso è scambiato non puoi più e vediamo un po' da me oh no un altro portacchiavi ma non ho così tante chiavi possiamo regalarla a Babbo questo? si posso si bene allora come già detto io ho il mio portacchiavi e io la non ho il boy wow wow non ne avevi ancora una ok ho trovato un indizio è un ventilatore o una palla da football fa vedere cosa c'è scritto sports fan sarà sicuramente con uno stile molto sportivo un altro indizio no questi non sono gli indizi questo è quello che può fare può cambiare colore può sputare può piangere e può farsi una pipì addosso questa è la prima LOL che c'era sopra ma non sarà un indizio non sarà che tu hai proprio questo perché guarda ha una maglia sportiva il vestito da basket perché sapete in questa LOL ci sono dei fatti sono maschi non ci sono femminicce ok qua dobbiamo togliere i nostri pacchetti ma che bella questa palla guardate cominci già ad aprire si sono curiosa no si riferà di tutti i colori credo che ho trovato proprio le scarpeze ma che bella e voilà è proprio lui è proprio lui io la LOL la potente che è riuscita oh oh degli occhiali da sole bellissimi guardate ok vediamo è bellissimo ma che carino con questi capelli da fighettino vabbè guardate dietro adesso mettiamolo guardate che cool ragazzi è bellissima eccola qua sulla nostra bella palla è bellissima allora ragazzi la nostra sfida è terminata questo è tutto quello che abbiamo trovato nelle nostre scatole sei soddisfatta Sofia? si molto anch'io sono soddisfatta di quello che ho trovato spero che questa unboxing mi sia piaciuta se si mettete tantissimi like a questo video iscrivetevi al nostro canale e non dimenticate di attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblicheremo un nuovo video e non dimenticate che potrete seguirci sui nostri social facebook e instagram ci vediamo nel prossimo video ciao ciao Ciao!